A presto, a discorso! Il nostro sindaco ha parlato con noi! L'abbiamo eletto noi! Lo vogliamo fare adesso! Il nostro sindaco qua adesso! Abbiamo che lui è il video conferenze! C'ha scritto! E' un anno e mezzo che stanno che la stanno qui! e poi via, via via! Poi, quando uscirò il canale non venire! Perché il Monado è libero dal... Poi lo diamo noi! Ah, non sento il mondo! Mi capisco! Allora, non c'è un capitolo! Non c'è un capitolo! Non c'è un capitolo! E non c'è un capitolo! Ma, non c'è un capitolo! Non c'è un capitolo! Grazie.